Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla strada regionale 429 bis per il ribaltamento di un'autocisterna contenente ipoclorito di sodio presso Badia e Elmi, frazione di San Gimignano, la strada è chiusa in entrambe le direzioni alla fine delle gallerie. La circonvallazione di Certaldo resterà chiusa al traffico per diverse ore per consentire la pulizia e la rimozione del mezzo. Sul raccordo Siena-Betolle rallentamenti in entrambe le direzioni per lavori tra Serra e Dirrapolano e il vivio Rigomagno-Sinalunga. Rallentamenti per lavori sulla statale 1 Aurelia tra Montalto di Castro e Pescia Romana in direzione nord e sulla 12 della Betone del Brennero in entrambe le direzioni per un senso unico alternato tra Giardinetto e Popiglio e sulla statale 62 della Cisa in entrambe le direzioni per senso unico alternato tra Aulla e Villa Franca e Lunigiana. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!